Star Quark Jovenant Alpha, Multiplier Kirkhian Edition. Dai creatori di Kirkhian Trial, una nuova sfida attende chi oserà viaggiare oltre i confini dello spazio conosciuto. Preparati a visitare l'immensità dell'universo ed a guidare la tua orda su infiniti mondi in cerca di cibo. L'accesso è gratuito ma se diventi un patron il tuo nome nel gioco avrai assicurato.